La SP5 rappresenta l'ultima evoluzione in tema di pompe spurgo. Essa è la macchina più grande, dotata di due serbatoi da 2,5 litri ciascuno, per cui ci consente di eseguire più cicli di spurgo senza dover ricaricare i serbatoi. Anche il motore è stato implementato e migliorato, quindi ha una potenza maggiore che ci consente di eseguire lo spurgo più rapidamente e in maniera più efficace. Sono stati aggiunti dei frangi bolle nei serbatoi che rendono il procedimento ancora più impeccabile, quindi possiede tutte le migliorie tecniche del caso. È dotata di un display touchscreen che ne rende intuitivo e molto semplice l'utilizzo. Vediamo che attraverso i tasti touch possiamo selezionare la voce ricarica olio per andare a ricaricare l'olio nel serbatoio desiderato, oppure premere su spurgo ammortizzatore per avviare la procedura di spurgo. In questo caso il procedimento di spurgo è gestito in maniera completamente automatica dal software, per cui noi non dobbiamo far altro che collegare il nostro ammortizzatore alla macchina attraverso l'apposito innesto. A questo punto la macchina ci chiederà di selezionare e impostare diversi parametri, come ad esempio da quale serbatoio vogliamo attingere l'olio per lo spurgo, selezionare se l'ammortizzatore che stiamo spurgando è dotato di separatore o è invece un ammortizzatore a bladder. Possiamo inoltre impostare il numero di cicli di spurgo che vogliamo effettuare consecutivamente, possiamo anche andare a impostare i tempi della fase di aspirazione e della fase di svuotamento. Una volta impostati tutti questi parametri e avviato lo spurgo, la macchina gestirà appunto tutto il processo in maniera completamente automatica e ci avviserà al termine dell'operazione con un bip acustico, per cui noi nel frattempo possiamo preoccuparci di altro, procedere con altri lavori, quindi è il modo migliore per ottimizzare al massimo i tempi. Una volta terminata l'operazione non dobbiamo far altro che effettuare il livello del separatore o distendere il bladder e gonfiare l'ammortizzatore con la giusta pressione di azoto e lo spurgo è completo. Per ulteriori info non esitate a contattarci o scriverci all'indirizzo mail che trovate nel sito.